Ciao a tutti, eccomi qui pronta per l'estrazione del giveaway Scusate i rumori, ma è Pollon che non sta fermo Vado a prendere il codice del video e lo vado a incollare qui Ok, io ho già messo due vincitori, il nome del mio canale e il nome con cui sono iscritta anche su Google Per non essere estratta Ok, andiamo a vedere Congratulazioni, il primo estratto è Lucy Drake e il secondo è Angela Loi Mi raccomando, mandatemi i vostri dati, i vostri indirizzi a cui spedire i regalini con un messaggio privato Io ringrazio davvero, davvero tantissimo tutte le persone Tutte, 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 una ad una Le persone che mi hanno commentato, che hanno partecipato al giveaway Che sono state davvero carinissime, mi hanno scritto delle parole bellissime E non preoccupatevi per le altre che non hanno vinto, che non sono state estratte Tanto ci saranno tantissimi altri giveaway che farò prossimamente Io vi mando un grosso bacione a tutti voi e vi abbraccio tanto Alla prossima videoricetta, ciao!